Cari quaddisti, facciamo uno strappo alla regola perché il vero dominatore di gara 1 della QX1 è stato Nicola Montelbini ha concluso in quarta posizione, è partito mentre attaccava le posizioni di vertice, ha avuto un blocco tecnico, un errore in una curva e poi mentre era in piena rimonta ha perso la sella, ha dovuto fermarsi ai box, grande team che gliel'ha rimessa e da lì ha iniziato una rimonta spaventosa, dall'ultima posizione è riuscito a concludere gara in quarta posizione in grande controllo Nicola, sei stato un leone, sei stato fantastico, una gara tecnicamente spettacolare, raccontacela perché li hai visti tutti, da ultimo a quarto Niente, purtroppo è un periodo no, nel senso che le ultime gare purtroppo non sono andate bene Pensavo e volevo rimettere in pari tutto quanto in questa gara, solamente che questo inconveniente tecnico purtroppo ha rovinato poi il risultato finale Comunque due punti pesanti sul Zimmerman recuperati mi sembra, due o tre, no di più, di più, quattro Per sperare di recuperare ancora Beh Nicola, il passo che hai dimostrato di avere è una certezza, è una concretezza È una gara storta che sei comunque riuscito a raddrizzare arrivando a pochi secondi dal podio con una rimonta anche fisicamente incredibile perché non hai mollato e deve essere stata dura Beh chiaramente fisicamente l'ho risentito un po' ma soprattutto un po' sulle braccia Però sono sicuro che non avrò problemi per la seconda mancia Non dovrò commettere l'errore che ho commesso e sono sicuro che farò meglio la seconda mancia Se quando va male fa il quarto Nicola speriamo che vada tutto bene e un grandissimo in bocca al lupo per la seconda mancia E poi il risultato di giornata sarà dato dalla somma delle due mancia Certamente, e io quindi spero di poter vedere, voglio sicuramente rifarvi la somma E comunque con tutto quello che è successo ricordiamo che hai recuperato punti pesanti per il campionato I conti ormai a questo punto li farò fino al campionato Facciamola alla fine Nicola sei stato veramente un leone, i nostri complimenti